Un saluto a tutti da Raffaele Drek74 e benvenuti alla recensione completa dell'Infocus V5 anche conosciuto come M506 o M808 a seconda dei mercati nei quali viene venduto Questo è un telefono molto interessante con un'ottima costruzione in monoscocca in alluminio che ho acquistato da MyFox per una cifra di circa 100€ più spese di spedizione È un telefono che mi ha molto stupito fin dalla prima accensione perché la qualità generale, l'usabilità quotidiana e le caratteristiche hardware non fanno trasparire la fascia di mercato e danno sempre un'impressione da top Comunque molto superiore alla fascia d'acquisto Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche siamo di fronte ad un terminale compatto con display Full HD da 5.2 pollici mosso dall'Octa-Core di Mediatek da 1.3 GHz di velocità massima 64 bit l'MTK6753 con grafica Mali T720 affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di ROM espandibili con una fotocamera anteriore da 5 megapixel e una fotocamera posteriore da 13 megapixel con sensore Omnivision e singolo flash LED che si comporta molto bene lo vedremo in seguito le dimensioni del terminale sono di 147 x 73 mm per uno spessore di circa 7.6 mm e per quanto riguarda il display devo dire che questo è di qualità molto buona è un IPS 5.2 pollici con risoluzione Full HD con una resa dei colori molto buona e vivida degli angoli visuali anch'essi molto buoni e una luminosità di buona qualità con un adattamento automatico che è sempre rispondente al cambio di luce esterna solo discreto sotto la luce diretta del sole e possiamo come al solito vedere qualche immagine con il nostro display tester la resa dei colori come potete vedere è molto buona e per quanto riguarda gli angoli di visuale se ci soffermiamo sul nero vediamo che quando andiamo ad inclinare molto come sempre negli IPS diventa un po' grigino mostrando la retroilluminazione comunque tutto sommato devo dire che si comporta molto molto bene andiamo a vedere la definizione con le foto come possiamo vedere anche avvicinandolo di molto non riusciremo quasi mai a vedere la griglia dei pixel è un Full HD 1920x1080 pixel la definizione risulta molto buona e come vediamo anche la resa dei colori per quanto riguarda le prestazioni in generale questo terminale si comporta molto bene aprendo molto velocemente le applicazioni e facendole girare in modo fluido possiamo andare ad aprire Google Chrome apriamo il Corriere della Sera in modalità Desktop appena finito il caricamento vediamo che l'esperienza di navigazione è buona abbiamo un po' di glitch e di refresh e ricaricamenti ma comunque si naviga bene e anche il panning e il pinch to zoom rispondono abbastanza bene al movimento delle dita per quanto riguarda le prestazioni con i giochi facciamo partire come al solito Epic Citadel comunque devo dire che questo terminale muove bene i giochi l'esperienza è buona può essere consigliabile anche ai gamer non esigentissimi in quanto anche i giochi abbastanza pesanti risultano essere fluidi con un buon framerate facciamo qualche movimento per vedere la fluidità come potete vedere tutto gira molto bene e questo Unreal Engine sappiamo essere abbastanza pesante per quanto riguarda il comparto multimediale anche questo si comporta bene ascoltiamo un brano musicale e poi vediamo un video come potete sentire l'audio riprodotto dallo speaker principale è molto buono anche il volume massimo la gamma delle frequenze riprodotte è molto completa è ben audibile e non distorce mai nemmeno al massimo del volume andiamo a riprodurre un filmato i filmati vengono riprodotti in maniera molto fluida e come potete vedere anche lo spostamento da una parte all'altra risulta molto veloce per quanto riguarda la parte telefonica anche questa mi ha molto stupito in quanto questo terminale è innanzitutto un terminale 3G, 4G manca la banda degli 800 MHz LTE però devo dire che in questi 15 giorni di utilizzo non ho avuto nessun tipo di problema la ricezione è sempre stata ottima con un buon switch tra i ponti e diciamo che le chiamate sono godibilissime in quanto sia l'audio in capsula che l'audio in viva voce sono molto buoni a tal proposito nel frattempo faccio partire una chiamata al servizio clienti e in capsula l'audio è veramente molto buono si sente benissimo e anche chi ci ascolta dall'altra parte grazie ai microfoni di buona qualità l'ascolto è sempre molto molto buono come potete sentire l'audio in viva voce risulta molto molto buono per quanto riguarda la connessione wifi e gps devo dire che questo dispositivo ancora una volta si comporta molto bene il wifi risulta sempre stabile e veloce e per quanto riguarda la connessione gps questa fa il primo fix molto rapidamente il segnale rimane sempre stabile e anche su strada l'esperienza di navigazione è molto buona non ho avuto problemi nel raggiungere cioè nel fare un percorso con google maps e la presenza della bussola diciamo aiuta l'esperienza di navigazione per quanto riguarda il comparto fotografico anche questo è un punto forte del dispositivo in quanto le due fotocamere quella anteriore da 5 megapixel quella posteriore da 13 megapixel danno dei risultati molto buoni soprattutto la posteriore in buone condizioni di luce le foto sono molto buone definite con una resa dei colori molto buona e non sgranano quasi mai anche ad uno zoom profondo le foto con la fotocamera frontale anche se sono molto buone e per quanto riguarda le foto in scarse condizioni di luce devo dire che la fotocamera posteriore da 13 megapixel si comporta molto bene con qualche difficoltà sul punto e scatta per via di alcune diciamo difficoltà nell'autofocus ma con un po' di pazienza e soprattutto con mano ferma si riescono ad ottenere buoni risultati che diciamo non fanno diciamo non fanno affiorare nemmeno grana video e rumore grana e rumore video nemmeno al buio e per quanto riguarda la batteria questa unità da 2450 mAh devo dire che anche se pensavo potesse essere sottodimensionata si comporta anch'essa molto bene portandoci sempre alla fine della giornata di utilizzo anche con uso medio intenso e con 4 ore e mezza almeno di schermo acceso in conclusione vi invito ad andare a visionare sul sito la recensione completa che trovate in descrizione nella quale troverete le foto in dimensioni originali delle due fotocamere il video girato in full hd anch'esso di buona qualità anche se la stabilizzazione ottica e la stabilizzazione digitale scusate non è di altissima qualità e anche in quel caso bisogna avere la mano molto ferma e vi dico questo terminale mi ha molto colpito mi ha convinto è un terminale che non fa mai vedere la sua fascia di appartenenza si può definire veramente un top di gamma da 100 euro e lo consiglio senza riserve a chiunque in quanto anche il buon software con launcher proprietario su android lollipop 5.1 è molto intuitivo molto semplice da utilizzare e non diciamo è possibile per chiunque utilizzarlo e salutandovi vi dico che se vi è piaciuto il video e vi piacciono le cose che faccio di visitare la mia pagina facebook e il mio blog linkati in descrizione mettere un mi piace alla pagina un mi piace sul video e iscrivervi se volete iscrivetevi al canale youtube alla prossima recensione un saluto a tutti e iscrivetevi al canale